In Val Sugana nella notte grande lavoro dei vigili volontari e dei permanenti che con due gru hanno trainato numerosi mezzi pesanti. Un twitter dei vigili del fuoco di Ledevico ci comunica che da stamane è chiusa la strada di Monterover e causa pericolo valanghe. Ma sentiamo Massimo Mazzalai. Nevica e la Val Sugana va in tilt, tutti fermi a più riprese fra Pergine e Borgo, congestionate anche le strade provinciali. La neve ha formato uno strato ghiacciato sull'asfalto, alcuni camion senza l'adeguata attrezzatura hanno bypassato i posti di controllo, hanno proseguito e si sono messi di traverso sulla carreggiata. Nel migliore dei casi tutti fermi a mettere le catene, risultato lunghe code, molti malumori. Se la Val Sugana è stata la zona più critica si sono registrati disagi anche lungo altre direttrici. Almeno nessun problema sul fondo valle lungo l'Adige dove la neve è caduta misto a pioggia. Oltre i 700 metri si registrano anche più di 50 centimetri.